Continua i tabunieri per la rimini calcio femminile che è sconfitta per tre reti a uno contro l'Olimpia Vignola. Seppure i ragazzi zenolisi avevano trovato morale soprattutto dopo il pari ottenuto alla prima nel 2017 sul campo dell'ostico San Mauro Mare. L'Olimpia Vignola è stata affrontata a viso aperto con Morelli che da calcio piazzato ha provveduto a pennellare un pallone evitante per Merchiona che si grava così il suo secondo gol di stagione. Neppure il tempo di festeggiare che le modenisi trovavano l'immediato pari con Casale che approfittava di un'ingenuità difensiva delle locali. Gli ospiti continuavano a premere sull'acceleratore ribaltando la situazione con Balesti. La stessa attaccante andava vicinissima alla doppietta in chiuso di primo tempo Mamarini e Super nell'intervento. Nella ripresa l'attitano le emozioni prima che Morelli scaldi Guattoni a fattori al minuto 70 che al 78 Montanari centri tris per le modenisi. 3-1 finale e ora prossimo test in programma domenica al Neri alle ore 17.30 con il Sassuolo subito dopo la partita tra Rimini e Real San Lazzaro.